Matteo vede per la prima volta la palazzina distrutta dall'esplosione nella notte tra il 5 e il 6 gennaio verso le 3.30 una fuga di gas dopo aver saturato la bifamiliare ne ha causato la deflagrazione qui in via Tiepola Padova nel quartiere universitario ora il lento pellegrinaggio degli otto studenti per loro fortuna tutti fuori sede quindi erano a casa con i propri familiari come Matteo Dallanese 22enne di Vittorio Veneto inizialmente si dovevo fare un salto toccata e fuga per prendere su due libri che avevo lasciato qua poi ho avuto un contrattempo a casa e ho detto va bene stiamo qua miracolato, grazie a quel contrattempo non è tornato per primo proprio lunedì la chiamata nel cuore della notte da parte della questura a rispondere la madre quasi più scossa di me perché io l'ho vista più dal punto di vista del fatto che ho perso le cose loro ho la paura e la possibilità che potessi essere qua piano terra con altri tre coinquilini, contratto regolare mai il sospetto di piccole perdite Matteo ora però ha perso tutto anche il libretto universitario di ingegneria meccanica tutto, ho lasciato magari le cose che mi servivano per studiare per i primi esami me le ero portate dietro, altre che ho detto ho l'esame un po' più verso fine febbraio le lascio qua le recupero più tardi e non le recupero più insomma poi vestiario, vario, strumenti per la palestra ora dovranno cercare un nuovo appartamento una scena piuttosto dura effettivamente qui c'è la palestina di due appartamenti adesso disintegrata in questa maniera qua è veramente un brutto colpo grazie a tutti grazie a tutti